Io la piscina la vedo come una seconda casa, ci passo tantissime ore, la vedo un po' come il luogo del sacrificio, il luogo del lavoro, il luogo nel quale si semina per raccogliere i frutti durante la gara. Carlotta non ha un carattere determinato, è proprio un caterpillar, nel momento in cui è stata scoperta la malattia poteva andare in crisi e non rivalersi, invece fortunatamente è riuscita da un problema a farlo diventare un punto di forza e aver ottenuto quello che aveva ottenuto fino adesso. Lei quando ha qualcosa in mente deve portarlo alla fine, se lei dice questa gara deve andare a buon fino, dice sempre in principio ma non so, non so, ma poi alla fine la porta alla medaglia. La mia specialità nel nuoto penso che sia prevalentemente lo stile farfalla che nuoto fin da quando sono piccolina insieme allo stile libero. Anche se in realtà nel 2017 quando ho iniziato a fare le gare nel mondo paralimpico ho iniziato a disputare anche la disciplina dei misti e di conseguenza tutti e quattro gli stili. Ogni giorno c'è un obiettivo per lei, è molto facile fare questa cosa qua proprio perché è estremamente focalizzata su questo, 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 questo. Non è maestro allievo, è maestro maestro, perché anche lei è una maestra sotto tutti i punti di vista. A me fondamentalmente allenarmi non mi piace, a me piace gareggiare, mi piace sicuramente vincere e crescendo ho capito che è la strada che devo percorrere. E lei è la motivatrice di se stessa. Io sono considerata una che non ama fare attività sportiva. Tutto avrei immaginato, fuorché di avere una figlia atleta. Ognuno di noi si pone nella vita tanti obiettivi, che sono quelli che fanno sì che la mattina quando ti svegli ti senti vivo. Però non è detto che li raggiungi, ma allo stesso tempo tu devi essere in pace con te stesso e sapere che hai fatto tutto quello che potevi fare per poterli raggiungere. La prima volta che è andata a una gara, era piccola, aveva avuto 7-8 anni, l'hanno chiamata e aveva fatto il primo. Lei non sapeva neanche di aver vinto da lì, poi ha detto questo sarà il mio lavoro. Da quella medaglia ha cominciato e non ha più volato. Mi si è veramente accesa una lampadina e ho capito che quello era quello che volevo fare da grande. Nella mia disciplina la prima cosa che vorrei veramente che andasse verso l'innovazione è sicuramente nell'ambito del paralimpismo e sicuramente l'approccio che tutte le famiglie che hanno bimbi con disabilità devono avere. Non devono pensare a dei bimbi fragili, ma dei bimbi normalissimi. Magari nuoteranno in un modo leggermente diverso da quello che è il canone normale, però quello non è assolutamente importante. Loro devono andare in piscina, devono nuotare e devono divertirsi. Lei vuole fare la differenza, lei piace fare la differenza. E la cosa più divertente per un allenatore è accompagnarla giorno dopo giorno e ripartire verso una gara, piuttosto che un'altra gara, piuttosto che un'altra gara. Non è semplice. 13 anni, tutto sommato, io spero che muovi ancora. Poi non lo so quello che farà. Io so qual è il mio obiettivo, io so qual è il sogno che voglio realizzare e so anche qual è il percorso, la strada che devo affrontare. E quindi mi rimetto subito sulla retta via, come si suol dire, a riprendere quello che devo fare. Carlotta quando non nuota è una classica ragazza di 22 anni.